La posizione di Confindustria è molto chiara. Lo strumento del Green Pass, anche rafforzato, è importante. Il nostro presidente Bonomi non ha fatto mistero di considerare praticabile anche l'obbligo vaccinale. Intanto la cosa che mi preme dire è che c'è un impegno forte da parte delle imprese per spingere sulle vaccinazioni. Come Confindustria Toscana Nord riapriremo l'obb vaccinale a Monte Carlo e proprio in questi giorni stiamo chiedendo alle aziende di aderire.